bella amici e amiche proviamo roller coaster taekwondo adventure deluxe l1 più r1 in tutorial avventura scenario sandbox mandiamo di tutorial dai falli orlare il luna park di chris ok sono due tutorial andiamo a vedere un po come il gioco comunque sul mio canale trovate park come si chiama l'altro gioco che sto giocando sempre di costruzione del park beyond ci sono due giochi di park che porto sul canale ok qua spostiamo ruotare seleziona ok allora modifica ok allora destra sinistra è così allora terreno con x modifica traccia un sentiero per collegarla giusta di solito non è difficile ma questi sono i soldi quadrato tutti all triangolo colore montagna rossa servizi terraforma per messi è una delle cose più facili ah è qua è ok 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 ah ma non è collegata aspetta però si ma devi star calmo adesso è collegata eh 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 allora utenze bagno adesso la faccio qui bam visate il freddo quando volete pensieri questo tutorial è terribile cestini eh ma colo in serviente ah devo far proprio una ma come che scusami va tutto storto ok ok ti hai ripremuto dove sono gli animatori voglio abbracciare un pupazzo ok ma tutenzione centro informazioni tac animatori allora fatto così è proprio terribile ok crescita da un parco è eh obiettivi ok chiosco di hamburger qui è dove loro sono felici sarà molto blando ok non si può andare sulla trazione no qua è solo colloca seguente bagno scivolo del faro allora scivolo del faro ah allora non possiamo metterlo perché è da ricercare però una giostra scivolo musicale questo vediamo un attimo se c'è già non credo ma io non riesco a capire perché va tutto storto sto rovo ok ok così funziona allora è molto blando è molto cartonoso più di così non non fa lo zoom ci rispetto a park beyond è tutta un'altra cosa è molto più scherzo figurino più più di così troppo a Questi bisogna eliminarli Non si possono demolire? Allora sarà qualcosa del tipo dello scenario Siamo così proprio brutta brutta? Ok Bello però Non è male Si stai vedendo i bambini ma niente di che Allora 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 Oh raga la casa infestata Grandissima A trazione Però come vi ho detto già Trovo difficoltà Noi no Noi no Noi no Noi no Noi no Noi no E' una cosa della famiglia E' una cosa della famiglia Fammi vedere dov'è Quello che dobbiamo Quello che dobbiamo Scivolo del faro Minore Minore Questo è Non è una cosa della famiglia Un'epoca 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 E non so se c'è... Allora le bandiere... Bellissima questa biometra... Assolutamente qui... Pam... Eh eh eh... Eh si... Ehm... Qui forse... Bandiere classico... Magari lo troviamo già qui... Magari non... Non c'è addirittura... Eh sa si ci sono però... Eh... Vediamo... Topicale... Fant... Fantascientifica... Western... Cactus... No non c'è... Non è a quel livello... Eh però... No... Diciamo gli alberi morti... No... È solo una casa infestata... Adesso poi è tutta vita... Sì... Vita vita vita... Adesso stiamo richiedendo questo... Mi pare se lo va giusto... Questo dovevo mettere... Mi piaceva... Una cosa più buono... Beh... Tanta roba... No... No... Non c'è tanto spazio... Qui... No... Non c'è tanto spazio... E qui non si può... Lo metti qui... Sì... 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 Vedi che c'era quell'alberi tipo morto... Eh... Ma è roba di scenario... Eh... Eh... Ok... Eh... Roba di scenario... Un po' un po' un po' un po' un po' un po'... Bellissimo il Pong, ragazzi... Atari eh, tanta roba raga, tanta roba Atari, allora vediamo un attimo la ricerca a che punto siamo, ne manca poco dai, comunque limonata ci sta anche la limona, la limonatina, vedi così o meno bevono, bagnon c'è, gli animatori ci sono, giulato, pollo cinese ci sta, pollo cinese ci sta, beh è molto blando però è bello, non è male ne devo dire la verità, certo non è Park Beyond ma è molto semplice, è fatto comunque bene perché comunque la grafica c'è, allora vediamo un attimo a che punto siamo arrivati, ma se non sbaglio c'era la possibilità di schiacciare un tastone, boh, vabbè aspettiamo un attimo, questa registra qui è terribile, ti fa scegliere altissimo e poi mollano, ti fa sentire proprio il vuoto d'aria, vediamo quando molla BOOM e poi tre due uno BOOM Harpongri si sta andando un sacco di gioco Oh Paaaa E l'abbiamo fatta Ok Allora Proviamo con l'avventura Dai Isola Luna Canyon, Foresta Floreale nuove assunzioni Horror Coaster Tycoon era un gioco di tanti tanti anni fa ed era fantastico già un sacco di anni fa libero proprio non c'è nulla e lì gli appestamenti di terra si devono comprare perfetto allora, beige senza ne ridere, ne scherzare abbiamo fatto un coso fatto bene poi sarà giochi così proprio in mezzo a a nulla ma giostra ok poi ok 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 e facciamo ok 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 Grazie a tutti. 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 Adesso si che funziona. Infatti vedete quando lo metti bene... Wow... Cioè è arrivata tutta sta roba? Uh... Ci sta? Poi... Centro di formazioni... E manutenzione... Esatto... Diciamo che come servizi ce li abbiamo... Squalo... Uh... Uh... Caspiterina... Eh... Eh... Devo... Devo aspettare... Allora... Alziamo un po'... Prezzo delle giostre... Eh... 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 E queste qui... Vedi? Eh... Forse... Dai... Il serviette devi pulire... Eh... Ok... 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 Allora... Allora... Soddisfazione... Troiti... Decorazione... Declino... Ci sono più problemi... Eh... Un' fru... Prove tutto, Ascia... Ah, vediamo un attimo le impostazioni, tecniche, riconoscimenti, domani frequenti, vabbè ci mi sono a ricerca perchè non c'ho soldi ok comunque piace il parco ok 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 io li farei così perchè sinceramente non so non so se hanno bisogno di spazio capito? no si semplice limit non è stata proprio una grandissima idea a fare la strada fino in fondo anche perchè non stanno punendo ok ai bambini piacciono i palloncini ok allora facciamo una bella cosa creiamo cartomante cartomante 2 visto che con l'altra c'è troppa gente su cartomante mi saldi però si farà una bella fatica vediamo qui vediamo qui 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 allora vediamo un attimo ci vuole un sacco di tempo prendere soldi c'è basket ho mangiato la talpa l'ho messo a parte che trottola go kart montagne rosse c'è di acciaio latte iper invertite diciamo che di roba ce n'è un botto boccone caramellato ok 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 torneranno di sicuro tutto bello bravi tipo la via da pulire quindi ci siamo 80% panini mascot 1 l'ha fatto ridere peluche gadget chiosco di giocattoli monete monete che non so facendo quanta cosa sta qua tutti due due eh chiosco di giocattoli l'ho messo un po' in fondo devo essere sincero eh ah nel tutorial non ho visto oh 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 meno che cosa meno panini meno tutto come mai meno giocattoli storia d'acqua eh questa è è un po' più blando rispetto a park beyond e l'altro che non mi ricordo mai come si chiama però ragazzi c'è un sacco di roba eh e poi è anche difficile da da fare coi soldini eh non è semplice oh bello eh però ma perchè che ho messo il coso scusa no ma sei serio ah ecco perchè quanti soldini vuole eh adesso si che saranno sicure ok il costo del biglietto ci sta duemila ma scusa mille e otto ok ah 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 Sì! Ok, adesso saranno felici che non ho fatto attrazioni per mettere l'inserviente, a livello proprio di strutture, ce ne vuole molto di più in questo gioco qua, anche vedete i soldi proprio, si fa fatica a fare, si fanno proprio fatica. Allora, vediamo un attimo. Ok, facciamo così, almeno abbiamo creato una sorta di area. Anche perché, vedi, il caldo dei nachos, i chioschi, tutti da ricercare, il bistro! Oh sì, ci sta! Assurdo i cartelloni per i miei cittadini domani, offri un abbonamento stagionale. 10.000 monete, e così si fa! Così abbiamo potuto ricercare e siamo rimasti nuovamente senza soldi! Incredibile, bellissimo! Eh, qua sono tutti da ricercare! Vediamo se tra i panossi... Si! Grove Grill! Facciamola qua, Grove Grill! Oh, si! Ci sta! Oh, che bello! Oh, che bello! Allora, numero di edifici esiguale attrazioni hanno anche ragione! Hanno anche ragione, ma non posso... Non posso... Non posso purtroppo fare... Nulla! Non posso purtroppo fare nulla! Non posso purtroppo fare nulla! Questo io volevo metterlo ma non sono riuscito a metterlo prima, giusto? Quindi questa è la mascotte... Vediamo che abbiamo sbloccato... Oh, vedi? Vedi? 8.000! Oh! Oh! Dio! Che gasto! Perfine Cların e? Che u 먼저 erano? Perfine, moi, più che so주! Quele clicare questo? Perché voce pernovare questo giorno? E poi così ci sELLa uscione? brobur brincando... Ho ho! Sì! 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 Allora amici e amiche Siamo quasi alla fine di questo episodio Una bella statua bellissima davanti all'ingresso di un'altra struttura È incredibile Marco Forse era meglio metterla di qua Qui Che tanto qua sono il banco informazioni I chioschietti strani Eh questi Questi che sono grafici no? Sono di Fiore spirale per dire Vediamo Vedi che bello Cose che fanno rallegrare i nostri amici Vediamo cosa dice Non intendo aspettare per cartomante due Ragazzi vi ho messo due cartomanti Cioè So va bene tutto Ma Eh Ma io uno può Gelato Oh un vecchio schietto del gelato Che così Oh 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 basket! ci sta il basket! questo mi aveva fatto come ricerca? facciamo questo allora 7000 dai! però finiamo sempre i soldi eh! the big money finish! allora qui siamo su roller! bella lì amici e amiche! ok creato vedi? modifica i colori si fanno un bordini ma qui credo che Mascot è uno spasso! questi animatori sono spassosissimi! ancora 10 minuti amici miei e ci vediamo al prossimo episodio! oh guardate l'animatore! fortissimo animatore! ma come cammina sganzo! questo qui è manutentore! noi vogliamo vedere gli amici bimbi e famiglie divertirsi qui al parco! questo è uno squalo! uno squalo e tipo ganzo si incontrano! questo qua è un negozio di giocattoli! allora hanno anche il basket 30 mi preferisco! ah vedi che bello! il tipo gli piaceva! ragionevole come prezzo! caro! vedi? ragionevole! vedi? mascotte! molto caro addirittura! ci divertono un sacco in più se costa meno eh! guarda per un soldino va addirittura al 100% eh! ma non è che posso molto caro! ok! molto caro! la gente non vuole spendere tanti soldi eh! il serviente ragazzi! eh! il serviente ce l'abbiamo eh! se poi non va a lavorare non si può fare niente! nel senso! vedi? a livello proprio di... non si possono assumere quello è quello è quello è! eh! allora... carriera delle bibite ne abbiamo una in giro! non credo eh! ok! ok! vediamo un attimo! vediamo un attimo! allora abbiamo... uh! vediamo che cosa dice! è completo! eh! torno dopo! allora... caramello! bibite! allora... cliente! cioè? etc! ecc! eh! La schietta l'abbiamo messo Questo c'è Ok alziamo un po' il prezzo Così almeno guadagniamo qualche soldino in più L'ha fatto Mettiamo le montagne russe dai Vabbè senza soldi Oh la la Oh la la Guarda qui Wow Bellissimo Allora comunque io vi ricordo amici e amiche di seguire il mio canale un sacco di giochi Giochi nuovi Ci sarà anche il nuovo Call of Duty Ok 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 è ragionevole Ah i tronchi E' un po' il serviente Eccolo qua Sta pulendo un attimo di calma no raga Beh giostre Ce ne sono abbastanza adesso eh Non vedo perché si lamentano Allora Allora pop canna canna melato Vivite nachos Siamo così A meno di calma no raga A meno c'è anche questo E c'è quello del sushi Sushi Quindi 61% sta salendo eh Un po' il mangiare Ma se poi ho messo due carri di calma no raga Ma se poi ho messo due carrile del nachos E del sushi Come mai state scendendo il mangiare 145 esitatori I soldini stanno crescendo La gente si sta divertendo Però è abbastanza Complicatino eh Abbastanza complicatino Qui è dove come si divertono La gente si diverte Perché qua non si divertono 31 130 80 30 Soldini Quelli che ci guadagniamo di più O è quello Ah che roba Eh la giusta qua Non ci si guadagna tanto Ristoranti Attrazioni Negozi Negozi Si guadagna pochissimo Carico di visitatori Però almeno Per me non è Per me non è Per me non è Per me non è Ok Ho ho Yeah Yeah No Allora amici e amiche, 7.000, cerchiamo le montagne russe, 7.000 e bam! Allora abbiamo speso tutti i soldi, ma stiamo ricercando le montagne russe, saranno pronte credo al prossimo episodio, qui bisogna comprare, ma ho visto che comunque è abbastanza grosso il parco, quindi si riesce tranquillamente a numerare le trazioni, ragazzi, il basket è completo, hanno anche tronchi a trazione che preferisco, grandissimo, qualcuno compra qua, ragionevole, eh, facciamo 21 perché altrimenti non si guadagna niente, questo che cos'è che è? Ragionevole, questo, questi animatori, ragionevole, famiglia, brivido, non si può mettere due o tre attrazioni identiche, va bene, va bene, dai, amici e amiche, io vi ringrazio, e si dà il gioco, e, eh, ah, proprio così. E vi saluto, Rollercoaster Tycoon Deluxe, è un gioco molto vecchio, ci giocavo sul PC, e sulle console di vecchia generazione, no, in realtà forse solo sul PC, tanti anni fa, tanti anni fa, quando andavo in giro in motorino, quindi, un bel salto nel passato, Marco Drums Games vi saluta, vi ringrazia, e vi aspetto per i tantissimi video di giochi che porto sul canale, e lascio i link in descrizione per potervi iscrivere sui social, su Twitch, ma soprattutto qua su YouTube, quando arriveremo a mille faremo una grandissima bella festa, mille amici su YouTube, quindi statevi bene, amici e amiche, alla prossima, ciao! Grazie a tutti!